amici di fustella rotante ma soprattutto amiche di fustella rotante il vostro fox che vi parla che vi dà il benvenuto a questo nuovo video di unboxing oggi apriremo la scatola di seven the sins gioco di david spada illustrato splendidamente da nicola angius ed edito da gate on games si tratta di un party game da 2 a 5 giocatori nel quale dovremo ricordarci anche in qualche modo perché c'è una piccola componente mnemonica le carte che avremo preso dal display e messo nel nostro mazzo per vedere se alla fine saremo stati virtuosi o peccaminosi ma senza oltre indugiare andiamo a vedere il contenuto della scatola togliamo il cellofan la scatola è piccolina molto trasportabile ma bella pesante bella piena togliamo il coperchio ci accoglie subito il regolamento si tratta anche qui di un regolamento multilingua molto colorato ci sono esempi e illustrazioni in quantità ci accoglie poi la plancetta dell'abisso doppio lato uno in italiano e uno in inglese sono perfettamente equivalenti le gemme dell'anima sono questi rubini rossi in plastica molto molto carini sembrano dei piccoli diamanti anche come forma diversi rispetto alle gemme che solitamente si vedono nei giochi da tavolo e due mazzi di carte con che sono poi il fulcro del gioco con sempre le illustrazioni di nicolai angius per i sette peccati capitali andiamo ad aprirne uno per vedere cosa c'è e come sono illustrate togliamo molto rapidamente il cellofan ecco qua le carte come vedete si riconoscono sia per il colore che per il nome in latino è stata fatta questa scelta del peccato sono in formato tarot e sono belle spesse non telate ma comunque le carte hanno un'ottima consistenza come vi ho detto ce ne sono due mazzetti questo è il primo dovrebbero esserci e mi sembra di averne ad occhiata una ecco anche le carte riepilogative che saranno date una per giocatore all'inizio della partita che ricorderanno i vari punteggi delle carte in base al numero che avremo accumulato nel nostro mazzo concludiamo facendo vedere anche l'inserto in plastica cosa non scontata per giochi in questa fascia di prezzo e che può contenere benissimo anche le carte imbustate perché vedete c'è un sacco di spazio ai bordi non è nemmeno troppo sovradimensionata come scatola come a volte succede anche per questo tipo di giochi come dicevo quindi questo è tutto seven the sins david spada illustrato da nicola angius edito da get on games io vi do appuntamento al prossimo video e mi raccomando restate in gioco ciao 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 Grazie a tutti